buongiorno sono gian paolo dalla pasolinea auto di gussago in provincia di brescia oggi vi presento questa introvabile mercedes sl 320 r 129 automatica immatricolata nell'anno 1993 con soli 19 mila chilometri percorsi vettura in condizioni realmente introvabili inutile dire che si presenta pari al nuovo un color rosso granata metallizzato che è veramente meraviglioso capote ad apertura elettrica chiaramente originale questa vettura è dotata anche di artop le gomme sono ancora quelle di primo equipaggiamento a riprova di realtà abbiamo interne in pelle nera volante in pelle già dotato di airbag conducente ecco 19.711 km cruise control climatizzatore automatico radio originale mercedes ecco il cambio automatico viazza cristalli elettrici c'è anche l'airbag passeggero una volta era veramente esclusivo ovvero gli airbag questa vettura una 2 più 2 chiaramente omologata a quattro posti a libretto è visionabile presso il nostro autosalone è disponibile per il collezionista che vorrà accaparrarsela a presto ecco vorrà accaparrarsela a presto Grazie.